Al lavoro in silenzio, cercando di recuperare un pizzico di serenità dopo gli ultimi accadimenti. In Casa Biancazzurra il clima non è certamente dei migliori e probabilmente bene ha fatto questa volta la società ad isolare la squadra nell'eremo del Poggio degli Ulivi, per far ritrovare anche quella vispugnandi necessaria a chiudere la stagione in un certo modo. Domenica prossima in Casa del Torino si presenterà un Pescara ancora incerottato, due i dubbi in particolare che assillano il tecnico Massimodo. Il riferimento è a Cesare Bovo, il grande ex, che potrebbe essere anche convocato per la panchina. E Baybeck, che dopo il forfè di domenica scorsa per un affaticamento muscolare, dovrebbe essere convocato, ma non sicuramente scendere in campo almeno dal primo minuto. Nulla da fare invece per Campagnaro, Gilardino e probabilmente anche Vitturini. Dopo la brutta prova offerta con la Lazio, il trainer adriatico cambierà ancora l'11 da far scendere in campo. Non è da escludere anche un ritorno al modulo 3-5-2, ma al di là dei numeri e degli uomini, conterà soprattutto la voglia di dimostrare di essere ancora vivi, nonostante una classifica disperata ed un ambiente depresso. Nel Torino, Mijailovic potrà contare sul ritorno in gruppo di Avelar e Molinaro. Fuori Rossettini, infortunato e Baselli, squalificato. La società Granata ha messo in vendita biglietti a prezzi ridotti per agevolare una maggiore presenza di tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Poche decine invece i supporters biancazzurri che seguiranno la squadra in terra piemontese.